Ci ho messo l'anima in questo negozio. Che dobbiamo fare? Quando siamo arrivati a un punto che veramente non è più possibile, bisogna prendere questa decisione. Chiude dopo oltre vent'anni una storica merceria a retina, ormai diventata appunto di riferimento della centralissima piazza della Badia. Una scelta purtroppo obbligata, ma la proprietaria ha deciso di pensare comunque anche agli altri. Dopo la svendita, l'invenduto sarà infatti donato in beneficenza. Prima la pandemia, poi il caro bollette ed infine i rincari. Troppo per reggere l'impatto. Tutto aumenta. A fare dalle più piccole cose, dai fili da ricamo che costavano 8 euro ogni rocchetto, sono andate a 13 euro. Di tessuti non se ne parla perché sono raddoppiati. La corrente, tutto quello che concerne le spese per andare avanti in un'attività. Il lavoro è quello che è, la gente purtroppo ha paura di spendere. Qualcosa si fa, non è che non... però non è più possibile. Si lavora solo per pagare e il guadagno è zero. Da qui la svendita prima della chiusura, il 31 dicembre, tutto ciò che non riuscirà a vendere, però sarà donato in beneficenza alla parrocchia della Badia. In quanto il parroco ha deciso di prendere lui questo fondo, era una cosa che ha sempre sognato. Lo prenderà lui, nascerà un mercatino di beneficenza della parrocchia, per cui spero che la gente collaborerà, non tanto come volontarie, perché penso che quelle ci saranno oltre a me naturalmente, ma anche perché il mercatino funziona con la roba che ci donano, quindi spero che la gente ci aiuti anche in quel senso.